Dal Vangelo secondo Luca, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, solo tu sei forestiero a Gerusalemme. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista ed essi dissero l'un l'altro. Non ardeva forse in noi il cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Tutti noi nella nostra vita abbiamo avuto momenti difficili, bui, momenti nel quale camminavamo tristi, pensieri, senza orizzonte, soltanto un muro davanti. Gesù sempre è accanto a noi per darci la speranza, per riscaldarci il cuore e dire vai avanti, io sono con te, vai avanti. Il segreto della strada che conduce a Emmaus è tutto qui. Anche attraverso le apparenze contrarie noi continuiamo ad essere amati e Dio non smetterà mai di volerci bene. Dio camminerà con noi sempre, anche nei momenti più dolorosi, nei momenti della sconfitta. Lì è il Signore e questa è la nostra speranza.